Buonasera e benvenuti al Tg Prato. Allora avete visto il governatore Enrico Rossi ha fatto tappa in città questa mattina per presentare il progetto Lavoro Sicuro che prevede una raffica di controlli nelle aziende gestite da cinesi grazie al team di ispettori del lavoro appena assunti dalla regione. L'obiettivo per i primi sei mesi della seconda parte del 2014 è quello di arrivare almeno 700 controlli in servizio. 700 controlli nel secondo semestre 2014 nelle aziende cinesi di Prato. Lavoro Sicuro è il primo obiettivo da centrare per il presidente della regione Enrico Rossi che stamani ha fatto tappa a Prato per la presentazione del progetto Lavoro Sicuro che prenderà il via il prossimo primo luglio a Prato, Empoli, Firenze e Pistoia e che prevede di sottoporre a controllo entro il 2015 4.400 delle 7.700 aziende cinesi attive in questi territori con un ritmo di ispezioni 5 volte superiore a quanto previsto dalla legge nazionale. Tutto ciò sarà possibile grazie alla task force di tecnici della prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro che con le 74 nuove assunzioni porta a 213 il numero dei controllori impegnati nell'area vasta centro. A Prato ne sono destinati 50 per cui il numero totale degli ispettori passerà da 20 a 70. Il progetto e la campagna di comunicazione con De Pleane in italiano e in cinese che prenderà il via a breve sono stati presentati ad una platea di imprenditori cinesi alla presenza del Consolato e dei vertici delle associazioni cinesi operanti in città. Il governatore Rossi non ha fatto sconti e con tanto di pugni battuti sul tavolo ha affermato che non saranno tollerate oltre gravi situazioni di sfruttamento e che le leggi vanno rispettate. Da qui l'appello alla collaborazione alla comunità cinese perché tragedie come quella del primo dicembre scorso al macrolotto non si ripetano. Io credo che non si può dormire accanto al telaio o accanto alla taglia e cusci. Questo no, noi entreremo in tutte le fabbriche e le rigireremo come un calzino. La campagna informativa si basa su un De Pleane bilingue italiano-cinese stampato in 30.000 copie che verrà distribuito a tutti gli interessati. Nell'intera area vasta entro i primi dieci giorni di giugno sarà attivo il numero verde 800 554 952 che sarà gestito dall'Asle di Prato. In orari definiti vedrà presente un mediatore linguistico cinese e per 24 ore su 24 fornirà indicazioni registrate in italiano e cinese. Sul tema è stato sottoscritto anche un protocollo di intesa con le procure della Repubblica la cui attività amministrativa sarà supportata dalla Regione attraverso l'assegnazione di 12 unità di personale amministrativo. Sul progetto la Regione ha investito complessivamente 12 milioni di euro per i prossimi tre anni. E ai margini della presentazione del progetto il Sindaco Matteo Biffoni ha presentato una parte delle proposte che avanzerà al Premier Matteo Renzi il 13 giugno in occasione del Tavolo Prato e Servizio. Potenziamento degli uffici della Procura e del Tribunale, formazione a partire dalle scuole, strumenti per colpire il flusso di denaro nero che esce dal nostro territorio. Sono queste le richieste che il Sindaco Matteo Biffoni metterà sul piatto il prossimo 13 giugno a Roma al Tavolo Prato convocato dal Premier Matteo Renzi. Un elenco da completare, anticipato dal nuovo primo cittadino ai margini della presentazione del progetto sulla sicurezza della Regione Toscana stamani nel Salone del Pellegrinaio Nuovo. L'intenzione è di chiedere al Governo lo stesso sforzo per la legalità che è stato prodotto dalla Regione e dagli antilocali. Sulla legalità si basa non solo la possibilità di evitare tragedie come sono accadute, come abbiamo rischiato che accadessero poco tempo fa, ma soprattutto si crea quel percorso di inclusione economica e sociale a cui noi tendiamo, a cui noi aspiriamo. Riteniamo che si possa creare qui un vero distretto della moda, ma alle condizioni che ci siamo date, ossia a quel rispetto delle norme scritte che anche attraverso operazione Mestamattina noi incentiviamo, pretendiamo, vogliamo da tutti quanti, compresa l'imprenditoria cinese. Il Tavolo Prato vedrà anche la partecipazione del Governatore toscano Enrico Rossi, che oltre a illustrare le linee di fondo del progetto lavoro sicuro presentato stamani, chiederà mezze e risorse per sviluppare ancora meglio questa iniziativa. La cronaca a un pluripregiudicato marocchino dei 18 anni, residente a Pistoia, è stato arrestato dai carabinieri di Prato per rapina impropria. Ieri pomeriggio in Viale Piave il giovane ha strappato di mano il cellulare ad una 44enne pratese ed è fuggito via. La donna lo ha raggiunto per tentare di riprendersi il telefono, ma il marocchino l'ha strattonata e picchiata per poter proseguire la sua fuga. L'arrivo di una pattuglia dei carabinieri del radiomobile ha bloccato la sua corsa e per il giovane sono scattate le manette. Nella collutazione con il marocchino la pratese rapinata ha riportato qualche scoriazione non refertata. Due baby ladruncoli sono stati fermati ieri pomeriggio dalla polizia dopo essere stati sorpresi a rubare all'interno di una profumeria del centro storico. Si tratta di due ragazzi di nazionalità marocchina, un 17enne residente in provincia di Pistoia e un 16enne residente a Prato. I due avevano rubato una confezione di profumo dal valore di poco inferiore ai 60 euro, ma nonostante avessero tolto la placchetta antitaccheggio sono stati scoperti al momento di superare le barriere. Sono stati denunciati in stato di libertà per reato di furto aggravato e quindi riaffidati ai propri congiunti nel frattempo fatti venire in questura. Lasciamo la cronaca, parliamo di economia. A Pistoia stamani sono stati presentati i dati sul credito per quanto riguarda le imprese industriali, anche pratesi ed è confermato che la stretta sul credito c'è ancora. Il servizio di Patrizio Ceccarelli. Un attimo, sta per partire il servizio. I dati sull'andamento del credito a Pistoia e a Prato fino a febbraio 2014, elaborati dalle confindustrie locali sugli ultimi dati resi noti da Banca d'Italia e Istat, continuano a registrare il credit crunch, ovvero la stretta sul credito in atto dal 2011. Avrei voluto dirvi che è cambiato molto, però devo dire che invece la tendenza è sempre la stessa, stazionaria, non ci sono peggioramenti, però era previsto per fine 2013 e inizio 2014 il passaggio dalla crisi alla ripresa, ecco non grande ripresa ma un pochino di miglioramento doveva esserci. Invece si è manifestato un leggero miglioramento, forse nell'ottimismo, però in concreto c'è stata qualche situazione sporadica di miglioramento nell'accesso al credito che riguarda però le aziende un pochino più grandi, più strutturate, diciamo sopra 20 addetti. La diminuzione tendenziale dei finanziamenti accordati all'intero settore produttivo a Pistoia è stata del meno 6%, mentre a Prato ha toccato il meno 11%. Punte particolari di riduzione dell'accordato sono state raggiunte nel settore delle costruzioni e nelle piccole aziende. Noi ci rendiamo conto che le imprese stanno risentendo di quello che è stata la crisi finanziaria e il risanamento dei bilanci sta pesando veramente sulle aziende, quindi chiediamo che ci sia un allentamento del credito per aiutare un po' le aziende a una ripresa economica perché ora le aziende sono veramente sofferenti. Decimo bilancio inattivo per il Museo del Tessuto di Prato, l'ultimo dell'era. Cavicchi, servizio. Chiude inattivo e con un avanzo di 292 euro il bilancio 2013 della Fondazione del Museo del Tessuto che segna la conclusione del secondo mandato consecutivo del presidente Andrea Cavicchi alla guida della struttura museale dal 2007. Resterà in carica fino a che il sindaco Biffoni non farà la nuova nomina. Stamani la presentazione del documento contabile che per la decima volta consecutiva, cioè da quando è nato il museo, attesta a una gestione inattivo. Il consuntivo 2013 è stato approvato all'unanimità dal Comitato di Gestione, organo esecutivo dell'ente e ora sarà trasmesso ai soci fondatori, Comune, Camera di Commercio, Provincia. Cavicchi lascia in eredità non solo conti in ordine ma anche un'attività vivace e originale che ha permesso l'aumento costante dei visitatori e un'attenzione che è andata oltre i confini regionali e nazionali. Una ventina agli eventi museali messi in piedi dal 2003 a oggi con un buon successo di critica e di pubblico, mentre le collezioni sono state incrementate di 190 reperti grazie alle donazioni pervenute e il patrimonio librario si è arricchito di circa 409 acquisizioni. Credo che questa rimanga sul territorio un'eccellenza. In molti casi si abusa del termine eccellenza, ma in questo caso si può utilizzare. Il museo del tessuto è un'eccellenza in quanto come museo specialistico di una parte solo della cultura è riuscito comunque a relazionarsi e a far capire che Prato è qualcos'altro oltre a quello che viene detto sui giornali di solito. Un patrimonio non solo economico ma anche culturale che grazie al lavoro di René Sanesi, consulente amministrativo della fondazione, ha un preciso valore aggiunto dettagliatamente misurato in un libro dal titolo Il Valore del Museo, presentato stamani insieme al Consuntivo 2013. La cultura oggi sicuramente è qualcosa di vicino a noi, gli artefatti, le cose e gli oggetti, ma c'è tutto un capitale relazionale e soprattutto intangibile che veramente rappresenta il nostro Made in Italy nel mondo. Gli studenti del Buzzi premiati a Roma per un progetto su creatività e innovazione scopriamolo insieme in questo servizio di Claudio Vannacci. I ragazzi del Buzzi sul podio in Italia per creatività e innovazione. I cinque studenti dell'Istituto Pratese hanno realizzato Fotoidraulica, innovativo progetto per la realizzazione di un impianto rispettoso dell'ambiente e che può essere utilizzato per scopi umanitari. L'idea, doppiamente virtuosa, ha fatto conquistare ai ragazzi il terzo posto del premio Scuola, Creatività e Innovazione, promosso da Union Camere. Gli studenti ritireranno il premio il 4 giugno all'interno di una cerimonia che si svolgerà a Roma in occasione della giornata dell'economia. Fotoidraulica è un progetto che nasce con l'obiettivo di realizzare un impianto fotovoltaico autosufficiente in grado di alimentare una pompa sommersa, permettendo l'estrazione di acqua da una falda acquifera subsahariana, povera di risorse idriche. Abbiamo sviluppato un sistema che sfrutta l'energia potenziale dell'acqua per riuscire a produrre un maggior quantitativo di energia e riuscire ad alimentare una pompa che di giorno è alimentata con dei pannelli e di notte invece è alimentata dall'energia potenziale accumulata in un serbatoio. A realizzare il progetto sono stati Alessio Bacci, Alessandro Bagni, Francesco Bellucci, Francesco Di Corrado, Alberto Signorini, mentre gli insegnanti che hanno fatto da tutor allo sviluppo del progetto sono Pietro Brogi e Alessandro Guastini, soddisfazione per il premio da parte del presidente della Camera di Commercio, Luca Giusti. Questo conferma come la provincia di Prato sia effettivamente tra le province italiane la più proficua da un punto di vista di capacità di dare opportunità ai giovani e di avere al suo interno giovani con grandi talenti. Torna il grullaio di Vergaio, il concorso di comici emergenti promosso dal Comitato Feste Proloquo di Vergaio. È di scena domani sera alle ore 21 in Piazza della Chiesa. Mattatore della serata sarà Maurizio Ceccarino Borgogni. La giuria presieduta dalla Iena, Andrea Gresti, giudicherà gli aspiranti comici emersi dalle selezioni. I gruppi 4 formaggi di Firenze, Bella Domanda di Torino, Stefano Martinelli di Seravezza, Lucca, Silvia Lepri di Pistoia, Salvatore Petrucci di Colle Valdelza. In palio 500 euro e il trofeo spicciolo d'oro, oltre al premio speciale per l'esibizione più originale, al premio Ridi di Gusto. Sul palco, oltre ai vincitori della scorsa edizione, i teatranti, il gruppo di cabaret dedito alla solidarietà e i bambini della scuola elementare di Vergaio, che presenteranno un doppio omaggio a Roberto Benigni e allo scomparso Carlo Monni. Toscana TV riprenderà la serata. E con questo è tutto, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata.